Noi non vogliamo nutrire grosse ambizioni il prossimo anno, vogliamo un campionato tranquillo e penso che già questo sia un risultato perché deve essere un campionato di consolidamento per tutta la squadra e in tal senso lavoreremo. Senta un ringraziamento ai tifosi che tra l'altro credo lastimino molto a difenza degli altri presidenti lei è stato sempre portato un po' in trionfo anche dalla curva, un messaggio per lei? È indubbio che l'affetto di così tanti tifosi mi ha aiutato a superare anche delle difficoltà e quindi un grazie va sicuramente a loro, va alla curva che con il loro tifo ha sostenuto il Torino per tutto l'anno mi auguro che rispondano ancora più numerosi alla prossima campagna abbonamenti che ovviamente sarà la parte che finanziariamente sosterrà il Torino nella prossima stagione quindi molti risultati dipenderanno anche dall'afflusso della campagna abbonamenti. Lei che è così vicino a Miller il prossimo anno che cosa le ha promesso? Questo giocatore che ha fatto un po' le bizze anche quest'anno? Io credo che il prossimo anno Miller non possa più permettersi i bizze quindi o da quello che io ritengo sappia dare, forse lo vedremo già nei mondiali comunque in Serie A non ci sono più scusanti il gioco è adattissimo a lui, la squadra è altrettanto adatta a lui il pubblico e le platee sono quelle importanti quindi non ci sono più scuse. La Serie A è già in Italia